Guarda che bello questo piatto. Eh si chef. Vuoi assaggiare? Oh e dice sì, non da fessi sorda. Hai visto che bello? Vuoi assaggiare? No. Hai visto che bello questo? Dai dai dai. Hai visto che bello questo piatto? Eh si chef. Adesso questo piatto qua lo facciamo assaggiare a Paolo. Non vuoi farmi una domanda? Vuoi assaggiarlo tu? No, mica, sassi. Stai schiacciato per? No. E allora cazzo parlo.